Una fanpage del collegio ha finto una malattia Cioè lei ha finto di avere una malattia, ha finto di avere il cancro e i polmoni È stato fatto tutto solo per hype Le foto non erano sue, la malattia non l'aveva veramente Non è una persona degna di attenzione È una persona a parere mio senza valori Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video dedicato al collegio numero 7 Una fanpage del collegio ha finto una malattia Sarà vero? Sarà falso? O sarà che queste cose fanno schifo al c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative di cui pubblico Tutti i giorni o quasi qui sul mio canale Così di rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash ed ovviamente anche sul fantastico magico mondo del collegio 7 Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio Ed eccoci qua ragazzi, nuovo video, nuove polemiche, super super shock Su questo collegio 7 Da quando è iniziata questa nuova edizione del collegio Aiuto ragazzi, si salvi chi può perché tra dissing, tra frecciatine, tra polemiche e sciocche Adesso lo vedremo Beh diciamo che questa edizione del collegio può essere una delle più discusse di sempre Questa volta però a far discutere non solo i nostri collegiali Anzi, in questa storia loro sono le persone che hanno assolutamente ragione Ma ad alimentare, non so come dirvi, ma polemiche, discussioni e quant'altro È stata una fanpage del collegio E voi direte ma perché parliamo di una fanpage? Beh, perché è successa una cosa grave, anzi gravissima Era già successa in passato questa cosa e adesso capirete anche perché Succede che ad un certo punto, qualche giorno fa, in queste ultime settimane Una fanpage del collegio, in particolar modo di 2-3 collegiali E queste sono Vittoria Lazzari, Elisa Angius e Luna Tota Ecco questa fanpage di queste ragazze, ma in generale anche del collegio Diciamo che si è comportata male Per male intendo dire che ha finto assolutamente di avere una malattia Di avere un tumore, pensate un po' Ed ha finto anche la sua morte Ha finto di essere volata in cielo questa persona E questa storia, prima di raccontarvela Mi ha ricordato una cosa che già avevamo vissuto insieme Che avevo raccontato proprio qui su YouTube Infatti vi lascio qui nella i di informazioni Il video in cui parlavamo della fanpage di Aurora Baruto Che per farsi rispondere ad Aurora Aveva finto la sua morte e anche una malattia Quindi insomma, purtroppo questo genere di cose accadono Succedono di nuovo con le stesse identiche dinamiche Infatti che cosa succede? Questa fanpage inizia a pubblicare foto e video Che al momento io non posso mostrarvi perché non ci sono Ma c'è soltanto uno screen che poi vi farò vedere Dove appunto fa vedere addirittura altre persone Persone veramente malate che stanno vivendo un momento così difficile Questa fanpage avrebbe finto di avere un tumore ai polmoni Una malattia gravissima, una malattia che ha strappato la vita E strappa la vita ogni giorno a tante e tante persone Ecco, questa malattia viene raccontata, viene finta sui social Solo e soltanto per hype Solo e soltanto per ricevere attenzioni da queste collegiali Quindi questa fanpage decide di giocarsi la carta della malattia Per avere un tornaconto, per avere appunto dei messaggi, delle visite Anche adesso lo vedremo, dalle sue beniamine Da queste collegiali che adesso sono famose e che lei vorrebbe incontrare Cosa succede? Succede che ben presto questa fanpage viene assolutamente Diciamo, in inglese si dovrebbe dire exposed Viene esposta, viene sputtanata letteralmente sui social Infatti ben presto le nostre collegiali Vittoria Lazzari ed Elisa Angius in particolar modo Si rendono conto che sono di fronte ad una fanpage Che le sta prendendo in giro Che sta strumentalizzando una malattia non vera Per avere delle risposte Per fare solo e soltanto hype E che cosa succede? Di fronte a questa notizia Cioè del fatto che fosse tutto finto Questa malattia, queste foto, questi video Di persone che stavano realmente male Ma che non erano quella fanpage Ovviamente le nostre collegiali Hanno deciso di rispondere E lo hanno fatto pubblicando dei messaggi Molto forti sui loro profili social Eh? Cos'è? Cosa? Per prima cosa voglio leggervi Quello che è stato il messaggio sfogo Da parte di Vittoria Lazzari Come ben sappiamo E adesso lo leggeremo anche nel suo messaggio sfogo Vittoria ha perso il suo papà Per una malattia di questo genere Quindi è molto sensibile all'argomento Infatti nelle sue parole leggiamo Molta rabbia Molta delusione E fatemelo dire Anche un po' di schifo Nei confronti di chi strumentalizza le malattie E infatti Vittoria ha scritto Mi dispiace per chi come me è stato male E ha avuto anche un minimo di dispiacere Per sub Voglio informare che era una finzione Una fantasia per attirare l'attenzione Di alcuni collegiali di quest'anno In particolare la mia I video e le foto dei suoi video Che pubblicava quotidianamente Sono di altre persone che magari Soffrono realmente Mio papà è venuto a mancare per un tumore Quindi questa ragazza Mi stava particolarmente a cuore Essendo che fingeva di averne uno E anzi mi disse anche Vitto io e te siamo un po' uguali Anche a me è venuto a mancare il padre per un tumore Un'altra finzione Più volte le avevo ripetuto Che sarei venuta a trovarla all'ospedale Ma ogni volta c'era qualcosa nel mezzo Che si inventava per non farmi venire Eppure se era reale come cosa Avrei messo da parte il dolore e il passato Essendo che vedevo mio papà Giorno dopo giorno morire davanti ai miei occhi Per la stessa malattia E sarei venuta per darle forza Ci sono anche persone così D'altronde Sfruttano i vostri punti deboli Per farvi avvicinare a loro Per scopi propri Chiudo il discorso E chiedo nuovamente perdono Per aver creduto Che avesse realmente una malattia E che fosse venuta a mancare E avervi trasmesso Questa falsa informazione Sì perché dovete sapere Che questa fanpage Ha poi anche finto la propria morte Infatti qualche collegiale Ha anche pubblicato Delle storie in cui Diceva riposa in pace Insomma dei messaggi veramente Forti E al tempo stesso Di affetto Verso questa persona Pensate poi scoprire che tutto quello A cui avete creduto in realtà È una menzogna È una bugia Non deve essere semplice Soprattutto non deve essere semplice Per chi Come Vittoria Ha vissuto questi momenti Ha cercato di mettere Da parte il passato Il dolore Di un affetto Che è venuto a mancare Per darlo Ad una persona Che in questo momento Sta vivendo quella malattia Ecco pensate poi A scoprire che è tutto finto C'è un doppio dolore Dietro Dietro questa scoperta No? Non è vero E addirittura Tu volevi essere Una persona disponibile Eri una persona disponibile Nei confronti Di questa persona malata E poi scopri Che è tutto falso Adesso però Andiamo avanti Perché al tempo stesso Anche un'altra collegiale Ha voluto dire la sua E stiamo parlando Di Elisa Angius Che di fronte Alla notizia Falsa Di questa fanpage Che era venuta a mancare Della sua malattia Decide di pubblicare Un selfie In cui scrive Che schifo mamma mia Scherzare sulla morte Mai accettato Ed Elisa poi Ricondivide Un Diciamo Un messaggio Di una sua fanpage Che voglio leggervi Perché Ha davvero Dell'incredibile Questa storia Viene fatto vedere Se voi lo vedete Appunto Un frammento Di uno di quei video Sul letto d'ospedale Con Penso la chemio Forse O comunque insomma Una flebo Che serviva a qualche cosa Di quella fanpage Ecco Questa fanpage Invece di Elisa Riscrive Un messaggio molto forte Che dice Una vergogna unica Una cosa veramente incredibile Ti fingi morta per cosa? Per un po' di gioie? Elisa e Vittoria Ti notavano Anche se non combinavi Questo casino Hai fatto un grandissimo guaio Non penso ti perdoneranno La prova che tu hai mentito È che hai messo Come real Questo video Lo stesso video Che ha messo Lei ora Non trovo l'account Ha fatto stare male tutti Noi page E anche Luna Tota Vittoria Lazzari E Elisa Angius Credo che ciò Sia veramente brutto Sei una falsa Le persone ci soffrono davvero E tu cosa fai? Ci scherzi sopra Fatelo dire Sei veramente ridicola Detto ciò Ora di te Non mi interessa più nulla Non parlerò Di questa situazione Perché è stata Veramente Pessima E ha taggato appunto Mi pare Due Due fanpage Che fingevano Tutto questo Insomma parole forti Certo Siamo di fronte Ad una Penso ragazzina Piccola Che non si è resa conto Anche Della gravità Di quello che stesse Facendo Perché spesso Queste cose Accadono Per via Per mano Di persone molto piccole Che utilizzano i social Ma li utilizzano In qualche modo Nel senso che appunto Fingere questo genere di cose Non solo è di cattivo gusto Non solo Non si fa Ma è anche Molto discutibile Nel senso che Capisco La giovane età Ma capisco anche Che ci sono tante persone Perché me lo dite Proprio voi qua Nei commenti Io sono in quinta elementari Io sono in prima media Io sono in seconda media Comunque Siete degli adolescenti Ok Fate sicuramente I vostri errori Ma scrivete Dei commenti Proprio giusti E cioè Beh Anche io ho 11 anni Ma comunque Queste cose Non le farei mai E poi mai Proprio perché so Che non si fa Proprio perché so E rispetto Le persone che sono malate Quindi È proprio Una questione Secondo me personale Non tanto di età Cioè Ci sono persone Che anche a 10 11 12 anni Sono molto più mature Di tante e tante altre Quindi Questo per dirvi che cosa Che non dobbiamo Incolpare Tutte le persone Che sono piccole Che sono giovani E che stanno sui social Ma dobbiamo incolpare Le persone che forse Non hanno un cuore No Io poi con questo Non voglio attaccare Questa fanpage Però voglio farla riflettere E soprattutto Spero Che da questo errore Da questo sbaglio Qualcosa Lo impari Adesso però Dopo questi messaggi Che vi ho fatto vedere Per voi In esclusiva Ho ovviamente Un video Una diretta Di Elisa Angius Nella quale sono entrato E ho fatto una domanda Perché volevo capirne Qualcosa di più Infatti Le ho chiesto Scusa Elisa Ma tu che cosa ne pensi Di tutto quello Che è successo Con questa fanpage Ed Elisa In diretta Lì In video Ha deciso di rispondere A questa domanda Vabbè Poi ci siamo anche iscritti Mi ha seguito Perché ve lo dico Lei è la mia preferita Del collegio Ma Cosa succede Succede che lei In diretta Spiega per filo E per segno Quelle che sono state Le sue emozioni Di fronte A questo genere Di fake news Di tutta questa falsità Sulla malattia E poi sulla morte Di questa fanpage E fate bene attenzione Perché ad un certo punto Elisa si è lasciata andare Anche ad un racconto Molto forte Perché lei In primis Ha vissuto Una malattia del genere Con suo nonno Che ha perso Proprio un anno fa Sentiamo insieme Quello che è stato Il suo racconto Guardate Cosa ne pensi Della tua fan Che ha finto La morte Guarda Non mi vergogno Di aver avuto Una fan Così Mi vergogno Veramente Perché È una persona A parere mio Senza valori Perché Non puoi Fingere la morte Tra l'altro Non la morte Basta Cioè Lei ha finto Di avere una malattia Ha finto Di avere il cancro Di polmoni Che è la malattia Per cui Sono morte Persone anche a me vicine Perciò È una cosa Che mi ferisce Cioè È un argomento Per me Abbastanza Cioè Che mi tocca Perciò Una persona Che finge Di avere una malattia E poi addirittura La morte Cioè Ti rispondi da solo Non è una persona Degna di Attenzioni Perché le attenzioni È proprio quello Che Stava cercando E secondo me Non ha senso Io non commento Proprio più Cioè Per me va bene così Finita proprio qua La storia Non ha senso Neanche più parlarne Non ho parole Molto vicine Se ne sono andate Per questo E io vengo a sapere Che tutta quella cosa Che stava fingendo Cioè Tutta la malattia Che diceva di avere Le foto In ospedale Le foto non erano sue La malattia Non l'aveva veramente Cioè Ma vi sembra Un argomento Su cui giocare? No Se devi fingere qualcosa Inventati un'altra storia Non farla su malattie Su queste cose Perché è proprio No No E poi addirittura A fingere di morire Cioè Ma vi sembra Una cosa normale A me no Per niente Ma sicuramente Una ragazzina Molto piccola Ma comunque Siccome non ho più voglia Di parlarne Non ne parlo più Non ne parlo più Non ne parlo più E basta Cioè Nel senso Per me è un argomento Chiuso Non ne voglio più parlare Mi ha fatto troppo schifo Mi ha toccato Perché Sinceramente Cioè Mio nonno a me Mi ha lasciato l'anno scorso Per una malattia Di questo tipo E sinceramente Cioè Io sono stata vicina A questa persona Anche per questo Perché so cosa Cioè So che è una bruttissima malattia E puoi scoprire Che ha finto tutto No No Non l'accetto proprio Chiaramente Non ci voglio proprio più Parlare con questa persona E Finisce lì Per me Troppo chiusa Non ne voglio neanche più parlare Capite Per me è finito proprio il discorso Tutta la cosa Fine Basta Cioè Io ho messo pure la storia Dove le dicevo Di riposare in pace Capite Il punto L'ho tirato fuori il discorso Perché Cioè Tu non puoi scherzare Di una malattia Così Che ha fatto perdere Delle persone speciali A un sacco di persone Ecco Io credo che Di fronte a questi Racconti Dovremmo Tutti Portare Ampiamente rispetto Per il dolore Di chi Non solo vive In prima persona Questi tumori Queste malattie Così gravi Che poi possono portare Anche Alla morte No Ma Dovremmo portare anche rispetto A quelle che sono Le loro famiglie Perché Purtroppo Il dolore Non lo prova soltanto Chi ha Una malattia Ma anche chi vive Attraverso quella persona La malattia Il dolore E il dolore E poi di perdere E poi di perdere Quella persona Quindi davvero Un messaggio Forte e chiaro A tutti quanti voi A chiunque Stia in questo momento Fingendo una cosa così grave Non fatelo Non prendetevi gioco Delle persone Per avere una risposta Per avere Un minimo di attenzione Da parte di qualcuno Fingere Una malattia Non si fa Perché su queste cose Non si scherza Non è un gioco Purtroppo le malattie E la vita Non sono Un gioco Non si può scherzare Sul fatto di venire a mancare Proprio perché Tante tante persone Vivono Ogni giorno In maniera molto dolorosa Queste situazioni Loro E i loro familiari E non è giusto Secondo me Prendersi gioco Di situazioni Così delicate Adesso però Fatemi sapere voi Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Io ragazzi Sono rimasto davvero Sotto shock Non potevo crederci Che Esistesse ancora una volta Uno scandalo Di questo tipo Una fanpage Che finge malattie Che finge di essere venuta a mancare Per cosa? Solo e soltanto per hype Io mi auguro che sia Un'ultima Brutta pagina Di Insomma Di questo collegio E di tutte queste cose Che dobbiamo ogni volta raccontare Ma perché Dobbiamo sempre raccontare Di queste fanpage Che Pur di avere una risposta Devono inventarsi Queste cose gravissime Io davvero Non ho parole E fatemelo dire Ogni tanto capisco anche Chi non risponde più Alle fanpage Perché ad un certo punto Se tu Cioè io capisco Che molte persone Abbiano qualcosa Da raccontare Una storia particolare Da raccontare Ma quando Ma quando si vanno A toccare Certi discorsi E poi uno deve anche A un certo punto Pensare Ma mi starà raccontando La verità Oppure no Io poi sono sempre Molto disponibile Rispondo sempre a tutti E Cerco anche di dare Una parola di conforto Ma Mettete caso Che una volta Mi è successo Di rispondere a qualcuno Che in realtà Quella situazione Non la sta vivendo Cioè capite Che è una cosa Orrenda È una cosa Bruttissima Noi Io mi metto Dall'altra parte Di chi risponde No Di chi dà Un'attenzione Un messaggio Positivo Noi lo facciamo In maniera Assolutamente Naturale No E in maniera Assolutamente Come posso dirvi Innocente Ma pensate Che dall'altra parte C'è qualcuno Che vi sta prendendo in giro Che vi sta raccontando Una malattia Che non esiste In realtà Vi sta raccontando Un dolore Che non esiste Non so Fatemi sapere Veramente voi Cosa ne pensate Qui sotto nei commenti Detto questo Il video può finire qui E spero tanto Che vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E qui sotto Trovate tutti i miei social Dove potete seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark? Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi Ci abbiamo provato Ciao